Abbiamo consumato due terzi del tempo e solo metà degli interventi, quindi a questo punto qui si vede il vero moderatore che deve essere orrendamente sgradevole con gli altri quattro senza apparire tale. Quindi per esempio faccio un sacco di complimenti al dottor Vincenzo Saturni che non solo è coinvolto in quanto esperto di trasfusioni ma attraverso l'Avis a cui tutti dobbiamo molto e che sempre ringraziamo anche per la partecipazione di oggi. Le ha alzato una bellissima palla il professore dicendo che i donatori hanno assolutamente bisogno di queste coperture vaccinali, ci spiega un attimo il perché lo capiamo, il come, dove, quando, nei limiti della sua disponibilità a essere breve. Poi di solito mi dicono ma perché quelli di prima? Quelli di prima si sono fatti mettere prima, sono più furbi e quelli dopo poi beccano i guai, ma in tutti i convegni è così. Sì, beh anche quando faccio gli esami all'università con l'AS ero quasi sempre in fondo, quindi non è che... In quel caso magari l'esame è più breve, poche domande. No, io mi associo a ringraziamenti al professor Accolla per avermi coinvolto anche nella parte organizzativa di questo interessantissimo pomeriggio, non solo nella mia veste di medico esperto di medicina trasfusionale ma anche come responsabile associativo di Avis perché noi abbiamo a che fare, come vedremo rapidamente, ho poche diapositive per focalizzare l'attenzione sui temi che ritengo principali in questa sede, la possibilità di raggiungere tante persone sane a cui velicolare anche messaggi di promozione della salute e di prevenzione, tra cui assolutamente anche il discorso dei vaccini. Io ho voluto prendere anch'io dai media questa recentissima dell'altro giorno uscita dove si dice che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che l'esitazione vaccinale possa essere una delle gravi minacce globali e quindi sicuramente un ruolo deve essere fatto, ma dal nostro punto di vista noi abbiamo alcuni riferimenti, alcuni sono già stati citati e li rifocalizzerò solo rapidamente. Noi siamo un ambito particolare rispetto ai colleghi che mi hanno preceduto, nel senso che noi siamo un po' intermediari tra quelle che sono le persone sane, i donatori, ovviamente dobbiamo verificare che lo siano davvero e che non causino problemi, questo è ovvio, e le persone ammalate che necessitano per la cura o addirittura per la guarigione o la sopravvivenza, il supporto trasfusionale. Lì in mezzo c'è però la garanzia che i prodotti che noi otteniamo dalla donazione siano di qualità adeguata per l'ammalato, perché non c'è solo la quantità e la sicurezza ma anche la qualità. Allora dentro qui io faccio solo una notazione tecnica, tutti noi sappiamo il sangue composto da due parti principali, corpuscolata e plasmatica, qui io mi soffermo rapidamente perché poi nell'ultima diapositiva vi dico un tema specifico sulla vaccinazione dei donatori, che è la parte del plasma all'interno della quale la parte nobile per noi è 55 su 60 grammi dal punto di vista trasfusionale, ma soprattutto volevo sottolineare questa parte dove abbiamo che dal plasma donato si possono ottenere le immunogloboline polivalenti utilizzate per tantissime patologie ematologiche, neurologiche, immunologiche eccetera, ma anche delle immunogloboline specifiche di cui parlerò nell'ultima diapositiva, ad esempio l'antiepatite B. Dal punto di vista pratico ci sono tre riferimenti anche normativi che io ho ripreso. Uno è all'interno del piano nazionale vaccinale che ha compiuto due anni settimana all'altra, 2017-2019, la foto che ha presentato anche il professore prima è nella copertina del piano vaccinale, dove quando si parla delle vaccinazioni antiepatite B vengono citati i propri donatori di sangue. Io avevo un pochettino contestato al ministro Lorenzin che era stato messo appartenenti a gruppi sanguigni rari perché era un po' come fare i donatori di serie A di serie B, secondo me dovremmo vaccinare tutti i donatori, perché se no dice perché quelli di gruppo raro sì e quegli altri no. Era un po' una forzatura a mio avviso, l'ho presentato, allora ero presidente della Visnazionale, però è rimasto nel piano, ormai era scritto e quindi va bene. Come peraltro tanti anni fa, quando c'era l'assessore della sanità della Lombardia, Patrizio Toia, io gli avevo scritto, quando era stato messo a punto nel 91 il vaccino ricombinante, che se noi avessimo vaccinato tutti i donatori di sangue avremmo ridotto ulteriormente il rischio di circolazione di questo virus con un grosso risparmio anche economico, perché avevo fatto il conto, all'epoca non c'era internet, ero andato in biblioteca a scogliarmi e tutte le cose, e avevo fatto il conto che curare due ammalati di cirrosi epatica post-epatite B costava di più che vaccinare i 150.000 donatori della Lombardia. Mi perdoni, per chi non studia, non è medico, spieghi rapidamente cos'è il ricombinante. Ah sì, beh, ci sono più esperti maggiore di me. Comunque è un virus, come diceva, non mi ricordo più chi ne aveva presentato nel suo intervento il professor Accolla, probabilmente, che è un virus che viene prodotto con ingegneria genetica, cioè non prodotto direttamente dal virus dal cui vogliamo proteggerci. Un altro tema che è già stato citato dal professor Grossi è che nella campagna vaccinale 2018-2019 sono stati inseriti tra i possibili candidati alla vaccinazione gratuita per l'antinfluenza proprio i donatori di sangue. Chiaramente anche in questo modo si aumenta la conoscenza dell'importanza della prevenzione da questa patologia che molto spesso viene considerata banale ma, come è stato detto, è veramente pericolosa. L'anno scorso è stato i cento anni dell'influenza cosiddetta spagnola e sappiamo quanti danni ha fatto. In questo caso è stata proposta appunto a tutti i donatori d'Italia in modo tale che potessero proteggersi. Per arrivare invece allo specifico, noi abbiamo un decreto ministeriale che ci guida per la selezione del donatore e qualche volta, tra le domande ma posso o non posso vaccinarmi, è esplicitato che la vaccinazione non controindica assolutamente la donazione ma anzi protegge il donatore e quindi aumenta ulteriormente la sicurezza e la qualità del sangue donato perché oltre all'anamnesi, oltre all'esecuzione degli esami, se un donatore è anche vaccinato per le patologie trasmissibili, queste si riduce ancora dal punto di vista del rischio. Allora dicevo che questo decreto in un punto specifico delinea quali sono i periodi molto brevi, il dottor Cecchipone dice che lui quando viaggia si vaccina per tutto quello che può rischiare in quel paese, in quel posto, certo ma noi siamo assolutamente d'accordo, sto solo dicendo che quando si viaggia la sospensione della donazione è prolungata per il viaggio, non tanto per la vaccinazione perché quella che ha una sospensione maggiore, ad esempio l'antifebbre gialla, sono quattro settimane ma poi si rimane sospese se si è andato in Africa, ma perché si è andato in Africa, non perché si è andato alla vaccinazione. Questo per dire che la vaccinazione non controindica assolutamente la donazione di sangue ma anzi, come dicevo prima, protegge il donatore, migliora la qualità del sangue donato e aumenta la possibilità di sicurezza per il ricevente. Le ultime due diapositive, perché volevo contestualizzare quello che è l'importanza della vaccinazione per noi, è che noi adesso stiamo parlando di vaccini, però qui abbiamo un professor Grossi, un esperto nella cura delle patologie infettive e in alcuni casi sono necessarie anche le immunoglobuline, cioè dei prodotti per causare, per determinare l'immunità passivamente, non attivamente come la vaccinazione. E ad esempio le immunoglobuline anti-epatite B sono un presidio importantissimo nel trattamento di determinate patologie collegate con questo virus. Noi, tutti questi, che voi vedete lì, le immunoglobuline specifiche che si ottengono dal plasma, sono praticamente tutte importate dall'estero, dove la maggior parte dei datori non donatori sono a pagamento con tutta una serie di problematiche di tipo sanitario, ma anche di tipo etico e di sfruttamento. Noi avevamo fatto un progetto, e qui termino, che era proprio del coinvolgimento dei donatori di sangue per realizzare il plasma cosiddetto iperimmune, cioè ricco di anticorpi anti-epatite B, che poi ha inviato all'industria di frazionamento, consente di ottenere i fraconcini di immunoglobuline anti-epatite B. Si faceva riferimento a donatori già vaccinati, quindi non si faceva la vaccinazione da capo, ma oramai la popolazione dei donatori, essendo obbligatoria la vaccinazione di anti-epatite B dal 91-92, chiaramente stanno diventando sempre quasi tutti vaccinati, dovevano avere un titolo di HBS a B superiore a 1000. A quel punto, previo consenso informato e accettazione del comitato etico, si proponeva la rivaccinazione con una dose booster, dosaggio del titolo anticorpale, quando questo superava almeno le 10.000 unità, si sottoponeva il donatore a plasma fede, cioè raccolta del plasma ricco di questi anticorpi. Questo poi veniva mandato all'industria di frazionamento con una procedura particolare e aveva un ritorno per gli ammalati italiani di questi prodotti ottenuti da donatori del nostro territorio. Io concludo qui perché appunto volevo contestualizzare questi due o tre aspetti che erano importanti, per riprendere quello che ho detto all'inizio, dicendo che per noi come associazione di donatori uno degli obiettivi è proprio quello di promuovere la cultura anche della salute, quindi non solo della donazione, che ovviamente è la nostra missione fondamentale, e contribuire con anche le normative che ci vengono in aiuto a diffondere la vaccinazione tra i donatori, a nostro avviso è un bene, oltre a quello di mettere a disposizione il sangue per chi ne ha bisogno, ma anche un sangue sicuro e di qualità, credo che faccia il bene di tutti. E vi ringrazio per l'attenzione. Dottore, io temevo una donazione di sangue di tempo per lei, invece è stato di una rapidità sconvolgente, grazie a nome anche degli altri relatori in attesa.